Buon sabato, sono a ShopRite, non so che ore sono, 10 e mezzo, a vedere le piante, forse c'è qualche zucca che mi interessa. Io la prendo sempre, compro la mia zucca, circa il 15 di settembre. Hanno già fatto tutte le raccolte, le raccolte le fanno alla fine agosto. Ano i mammi spieghiamo quanto. sono sei dollari l'uno vorrei non so se mi piace il giallo mi piace il rosso eccoli qui prendo uno di questi qui mi piacciono molto pesi riprendo che sono proprio così non vogliamo quello poi hanno altri qua tancione io prendo quelli rossi questi sono 6,99 buon prezzo devo scegliere devo sempre avere quello brutto no più brutto cerchiamo uno brutto ma questo non è tanto brutto abbiamo questo prenderò questo qui deve essere brutto la zucca poi ne hanno altri qui tanto il manus qui e qui e quelli bianchi costano di più e questi sono i più piccolini andiamo qui questo è interessante questo andiamo qui qui quelli bianchi costano 12 dollari molto carini aspettiamo qui poi hanno questi lì e qui piccinini qui ci sono 99 centesimi aspetta questo no prendo questo e questo qui hanno l'indian corn per appendere fuori potrei prendere uno di questi anche per appendere nella mia ghirlanda fuori ok ok questo è solo per iniziare carino questi 99 centesimi l'uno guzzini come hai sentito vediamo qui tazzina con piattino 99 centesimi ci piace fammi vedere qui con gli occhiari made in europe non specificano dove sono fatti carini ok come hanno le fragole 2 dollari 99 ci piace questa è l'aria sufi lui te l'ha te l'ha te l'ha ti prepara le hanno appena messi fuori questo è veramente fenomenale buon prezzo 9,99 le ha appena fatti crunchy spicy tuna volcano con riso integrale e quinoa questo è il riso integrale io voglio una con il citriolo me le sta facendo crunchy sweet potato guardate questa cos'è tuna spicy tuna con quinoa crunchy spicy tuna roll sono otto 49 centesimi buon prezzo spicy tuna roll prendo questo con il mio figlio dai green spicy spicy questo ha salmone wow questo è 15 dollari bello dragon roll questo è crunchy spicy tuna roll è buono questo mi sta facendo il mio io ho preso uno solo con il citriolo mi piacciono molto questi ora prendo un po' qui grazie a tutti 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 l'ho messa dentro il mio planter questa ce l'ho ho comprato tanti anni fa e ci metto le piante dentro questa l'ho comprata che ancora non ha sbocciato così dura di più e se la combi già sbocciata durerà poco durerà fino alla fine di ottobre e anche di più quindi mi piace adoro questo colore questo colore mi piace sobrio mi piace sobrio e poi qui ho messo le zuccherò le zuccherò questa è la zuccherò brutta perché vedete tutta un po' così e poi ho messo qui poi sistemo tutto poi qui ho messo le piccole zuccherò e poi ho messo le piccole zuccherò e poi ho messo le piccole zuccherò qui ho messo le piccole